La domenica dei verbi. Barletta Lecce al Puttili in prima divisione e Martina Foggia al Tursi in seconda. La Puglia del calcio professionistico si mette in proprio per un weekend e propone gli incroci più suggestivi, quelli certamente più attesi dai tifosi. Barletta Lecce torna in campionato al Puttili, addirittura a 26 anni di distanza dall'ultimo precedente. In quella circostanza i Biancorossi vinsero 3-2 e riuscirono a scrivere una delle pagine più entusiasmanti della propria storia calcistica. Altri tempi però, quelli attuali, parlano di un Barletta senza obiettivi da raggiungere in questo campionato. Ha la promozione in Serie B nel Mirino invece Lecce, traguardo che i Salentini non potranno più raggiungere attraverso la porta principale dopo la sconfitta casalinga di domenica scorsa contro la capolista Perugia. Potranno farlo eventualmente soltanto ai play-off. Resta intatto tuttavia il fascino del derby di domani pomeriggio e non solo sugli spalti, i giallorossi di Franco Lerda, infatti vogliono tornare presto sulla retta via, i biancorossi di Nevi Orlandi devono sfruttare una delle ultime occasioni per regalare una gioia ai propri sostenitori. E derby made in Puglia anche in seconda divisione. Martina Foggia si giocherà al Tursi a partire dalle ore 16. Torna domani pomeriggio dopo il turno di sosta per la Via Reggio Cup, il campionato di Serie D con gli incontri della 22esima giornata. Due gli scontri diretti tra formazioni impegnate nella bagarre promozione. Il primo, a proposito di derby made in Puglia, si gioca al Fanuzzi tra Brindisi e Monopoli. I biancazzurri presentano in panchina la novità Marcello Chiricalo, che ha preso il posto dell'esonerato Ciullo. Sarà lui il grande ex della partita, in cui il Monopoli proverà ad avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica. E' un match d'alta quota, anche quello in programma a Torre del Greco tra Turris e Taranto. Il Manfredonia al Miramare contro la Cenerentola Real Montapontino ha una ghiotta occasione per conquistare tre punti utili in chiave salvezza. Seconda domenica senza calcio invece per il Biceglie, che osserva il turno di riposo a Lucera. Inoltre il San Severo ha bisogno di un'impresa per fermare la marcia del Matera di Cosco, impegno casalingo più agevole per il Grottaglie in casa con il Gladiator. La capolista marcianese gioca sul campo del Mariano Keller. Tanti gli incroci interessanti anche in eccellenza, due su tutti, Fidelisandria, Libertas, Molfetta, Aldegliulivi con inizio previsore 18 e Mola, Casarano nel domicilio dei Baresi. L'Andria ha bisogno di inanellare il ventunesimo risultato utile consecutivo per continuare l'inseguimento alla vetta della classifica. I Biancazzurri, nove vittorie nelle ultime dieci partite, troveranno di fronte però un Molfetta agguerrito che pare aver definitivamente risolto le perplessità di inizio 2014. Grande attesa anche per la sfida tra la vicecapolista Mola, che ha ripreso a vincere con una certa frequenza, ed un Casarano in calo però nelle ultime settimane. C'è il Galatina invece sul cammino della prima della classe, il Gallipoli, occasione d'oro infine per Trani e Sud-Est. I Biancazzurri di Pino Giusto ospitano al comunale Accenerento alla Manduria. La Sud-Est gioca invece in trasferta contro il modesto Francavilla Calcio.